Il popolo di Facebook, Youtube e Twitter e Instagram e Instagram siamo qui al Girasole siamo a Traspetto a Maccola siamo tornati a un posto di prima il Girasole è tornato e siamo qui gli amici ci stava molto gente non è un Girasole mi ha voglia dire dopo faccio un messaggio a tutti gli amici che venivano a casa gli ho dirlo due parole la mia moglie è un video cucino dalla Siena è una dei problemi gli amici non ci sono visti e come adesso questi ci sono mia moglie è sempre qui mi ha figli sempre qui amore ci siamo trovati qualcuno dimmi la lega io stasiccio ma la faccio ma la faccio ma la costola ma la mia moglie non mi spiega vabbè amore non ti intiè A me a me a me avete visto la te SBWR, a me mi diciamo Amore, diciamo Dici che è po' Dici, che favore che ci fa? Avete capito che ha detto questo? Ciao papà, e voi che venivate a casa, volevate male, sono tornato, è un forte di vino, io e noi che siamo vincenti, ci vediamo tutti.